Il polo dell'alta moda Vestina perde ancora pezzi. Infatti, come annunciato nei mesi scorsi, sono 50 i lavoratori che hanno lasciato l'azienda Brioni a fine giugno con la procedura di mobilità incentivata così ripartita. I lavoratori con contratto a 40 ore hanno avuto una buona uscita di 32 mila euro, 30 per i lavoratori a 36 ore, infine 16 mila euro per chi disponeva di un contratto part-time a 20 ore. L'uscita di queste maestranze ha ridotto il numero dei lavoratori a circa 1000, ripartiti all'interno dei tre stabilimenti dell'area Vestina, Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova, che comunque godranno di rinnovati premi e rimborsi per asili nido dopo scuola e trasporti. Ma l'azienda Vestina ormai da qualche tempo vede il suo fatturato sempre in calo, con un margine operativo ridotto e con tante perplessità mosse ancora una volta da alcuni dipendenti a cui non è chiara la situazione di come il polo della moda Vestino stenti a ripartire visto che il gruppo Kering, che detiene il marchio Brioni, ha chiuso il bilancio di esercizio con un fatturato di 13,66 miliardi di euro e con un utile di 3,7 milioni di euro. Negli ultimi giorni molteplici le voci che vogliono un gruppo di facoltosi imprenditori pronti a rilevare l'azienda pennese, ma per il momento vendere non sembra la volontà principale del gruppo Kering.